Qual è l'hashtag che usi di più? Sorry not sorry Amala Cos'è un pixel? È uno dei tanti quadratini che compongono un'immagine, un'unità di misura Preferisci cover eccentriche o neutre? Neutre, l'eleganza sta nella semplicità Ma in realtà preferisco le cover trasparenti, mi piace vedere il telefono Quante app hai? Tantissime, però sono praticamente tutte per modificare esposizione, colori, luminosità Quindi sono tutte uguali, però tante Sulle 72 app ne uso più o meno 7-8 quotidianamente Cosa ti è piaciuto di più di Vodafone Smart Prime? Mi è piaciuta moltissimo la dimensione del display, perfetta È un ottimo compromesso per quelle che sono le mie necessità È la semplicità di utilizzo, di personalizzazione, la leggerezza Perché pur avendo un display grande è estremamente leggero E questo mi ha colpito subito appena ho aperto la scatola Allora, come ho scritto nella mia recensione Sicuramente la durata della batteria che è eccezionale Mimaci la tua emoji preferita